Buongiorno a tutti, ci troviamo alla Raisina per la Spalantea. Qui accanto a me ho la rappresentante, Franca Crudo. Cosa posso dire? È come sentirsi a casa. A casa è dire poco, è come immergersi nuovamente in un passato che ritorna, vivo, reale, vivace. Abbiamo il pane duro che Franca sta tenendo in mano, quello che si portava nei campi e si mangiava con dei fichi secchi, con delle olive da giarra come noi, con l'origano come sta facendo un filino di olio. Quell'olio che si curava, si curava con un estrema amore, veniva raccolta e tutto il resto. Qui abbiamo tutti i profumi della nostra terra, la carne di maiale, una delle tradizioni più antiche, ecco, la conservazione della carne col peperoncino che poi veniva mangiata e tutti i colori e i profumi della nostra terra. Scusa Anna se ti interrompo, allora, atipica carne salata. Allora, ci troviamo qui alla località Raisina, a Zungri, che oggi giustamente stiamo facendo la giornata di Upani. Con noi c'è Anna Grillo come rappresentanza, perché è della nostra zona, però è una persona acculturata che ci onora ad essere qua con noi. Adesso a breve facciamo una presentazione dei due suoi libri, che vuole, ha scelto la nostra location Upagiaro, 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 che poi non vi dico, ci faremo delle sorprese, che sicuramente lei ancora è tutta all'oscuro, ma ci prepariamo una location, come Marconcetta sape fare, che ha cura nei minimi particolari. Quindi, adesso vi presentiamo la nostra tavola, che c'è di tutto e di più. Allora, a cominciare, il pane tosto, la carne salata, la cipura, la soprassata, l'oglio, un po' di tutto, figlioli. Andura, formaggio di un po', figlioli, di tutto e di più. Buon appetito, se volete venite. Ciao.